Ben ragazzi siamo Grana e siamo tornati con un nuovo episodio della challenge settimanale che come al solito è tutti i mercoledì E tutti i mercoledì Dai e poi ci vediamo i drogati Mi piace la farina eh Mi piace il petronio Però questa è vera la farina Comunque non è vero Comunque noi oggi andremo a fare ogni gol Cazzo non pulisco Non una sniffata come tutti pensano Ma cioè andremo a prendere un cucchiaino bello pieno di farina E vi assicuro che un cucchiaino di farina in bocca Nooo Ci manzaloni Cazzo la farina su quanto vuole Fai così e si leva Cioè la farina sui pantaloni La farina in bocca La farina in bocca è come il cemento praticamente Non riesci più a aprire la bocca Mi consiglio di provarla senza moderatamente Perché se no non ci provate Non fate la casa don 3 di 7 uom Incredibile quanto ci prendono la vita Tu registri 10 minuti al giorno E in quei 10 minuti ti chiama il mondo E' incredibile comunque La tradizione finale di Champions League di quest'anno Chi prenderà la farina? Subito Vai Gervi 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 La mette dietro subito Incredibile Incredibile Decidili Che zionale Subito così Vabbavia Subito Con il cucchino bello pieno Dai Momo pippo invece che mangiarlo Va bene comunque Dovrai rispondere alle domande Mentre Vai Schifo Dai non fa niente Eh no aspetta Entra l'occhio Demonio Come ti chiami? Come li chiami? Bambu Hehehehehe Behehe Bambu 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 Sì, bellissimo Tu a zero subito, ragazzi Dai Aspetta, rispondi a questa domanda Niente, non tannato Questi sono fatti compromettenti E' buono lo stroco No Ci siamo, possiamo andare Mi pare l'estata dentista quando Te chiede, quando fanno impronta per i denti O sai qual è la cosa figa? Che sono passati solo 5 minuti di partita Che palla per i turbi I turbi avete tutto al centro Lo fa nero Anzi, lo fa bianco Lo fa bianco di farina Vorrei farvi notare Vai, bello, vai Non mi sento male stasera Faccio sta pizzetta, vai Sto con un favore o merda Un favore di farina Allora, rispondi a questa domanda ora 2 più 2 uomo Non fa fai 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 Non ho rai Non ho rai No Dai E' fanno Ma un medisantis Fanno Medisantis E dai E dai Ma che Ma dai Ma allucinante 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 Oh E' be E' be E' be' la lavatrice E' che E ricomincia il secondo tempo Bella M'è piaciuta M'è piaciuta M'è piaciuta Dio C'ho la fria dentro l'occhi Pianic Ma stava guarda Stronzo Oddio ma no La si la leva E' partito Francesco E' no E' partito di turbe I turbe I turbe Ecco è questa Andrai a farti male ragazzo Adesso Rispondi Dai Aia Rispondi a questa semplice domanda Come si chiama Messi Rispondi Tutto largo Mamma che palla Per Gervinio Gervinio E 5-0 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 6-0 6-0 6-0 6-0 1 6-0 6-0 7-0 7-0 7-0 8-8 8-0 8-9 8-0 9-0 12-0 8-8 8-9 9-0 10-9 11-10 9-10 10-12 mancia, troppo un'embarca, mi sono mangiati 5 mmm buona ti piace la farina? vai buona trentatè trentina entrano a vento che non riesca di fare neanche neanche la fasta eh tu devi trentatè mangiata si come fa? batti un po guarda 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 c 6 a 1 6 a 1 capito tu sei a 1 posso pipparmela che preferisco che cazzo fai giallo scuola efe ma è che sto fumando dai mangi ti giuro che ce la puoi fare ce la puoi ancora fare ce la puoi ancora fare dove vai ah si che bello che bello almeno sono riuscito a fare 2 gol 2, ho fatto 3 troppo mangio buono eh noi ti ammazzo ti ammazzo dentro l'occhi matti però eh aspetta 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 qui tanto è finita non faccio entrare un passegna forse si non riesco a togliere palla e finisce qua la partita bellissimo è stata una bellissima sconfitta soprattutto perchè pare che sono panettiere faremo da lavoro devo farvi notare una cosa eccolo quindi dalla spesa settimana è tutto è una carina il nostro rumore se arriviamo a 3.000 mi piace la prossima settimana facciamo la rivincita della fila con la scossa stavolta a parti invertite cioè io il getafe e lui la colombia la colombia lasciate un mi piace becca al prossimo video è bella è 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